La terza mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni in Consiglio regionale contro Fontana e la sua giunta per gli errori commessi nella gestione dell'emergenza sanitaria è stata respinta nella seduta di martedì 2 febbraio. Sui 77 consiglieri presenti, 47 hanno infatti votato no contro la mozione, 30 invece i voti favorevoli da parte dell'opposizione nel mandare a casa il governo Lombardo. 30 voti come i 30 consiglieri di Movimento 5 Stelle, Lombardi Civici Europeisti, Misto, PD e Più Europa che avevano presentato nei giorni scorsi il documento nel quale evidenziavano i gravi errori commessi nella gestione della pandemia che impedivano la permanenza di Attilio Fontana e della sua giunta alla guida della regione. Non essendo stati in grado, si legge nel testo, di tutelare la salute pubblica e di garantire la custodia, la protezione e la salvaguardia degli interessi economici regionali, ad aggravare la situazione, secondo le opposizioni, vi era anche la questione dell'indebito inserimento della Lombardia in zona rossa a causa di presunti errori della regione nell'invio dei dati sanitari all'Istituto Superiore di Sanità. Alla notizia della bocciatura della mozione si è scatenata però la maggioranza, per prime le parole del presidente Fontana. Questo è un messaggio chiaro e netto ai consiglieri dell'opposizione. Non sarà certo la vostra ennesima mozione di sfiducia a distrarci dal nostro lavoro. Gli fa eco Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, anche oggi i mentitori seriali dell'opposizione sono stati sconfitti su una mozione che non aveva alcun senso, l'ennesimo atto di propaganda destinato all'insuccesso. Così come Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia, che giudica la mozione, un atto disperato del PD e del Movimento 5 Stelle, che cercano goffamente di screditare la regione per scagionare gli innumerevoli disastri del loro governo di missionario.